Io penso che bisogna fare un plauso al coraggio del giornalismo d'inchiesta come quello di Fanpage. Fa male vedere ancora una volta, pur sapendo che esiste questo rapporto tra pubblici amministratori politici e affaristi e corrotti. Noi lotteremo contro la corruzione con tutte le nostre forze, contro i privilegi, contro i comitati d'affari. Non si può pensare di lucrare a danno dei cittadini, della salute dei cittadini per ottenere questi vantaggi ingiusti. C'è una timidezza e un balbettio nel PD nel prendere posizione su questo punto. Io penso che bisogna fare un plauso al coraggio del giornalismo d'inchiesta come quello di Fanpage e di tanti giornalisti che pur di raggiungere la verità, di andare verso la verità, fra l'altro è un valore che ho sempre perseguito per tutta la mia vita, la ricerca della verità, quindi sono accanto a loro. Tutto questo non può che deludere per quello che la politica oggi rispetto alle aspettative dei cittadini rappresenta. Noi abbiamo bisogno di una politica che per prima dica no ai comitati d'affari, no ai privilegi e a tutto ciò che può danneggiare i cittadini.